1970, l'anno di nascita della Regione del Consiglio regionale, ma anche il mio anno di nascita, quindi una ricorrenza importante anche per me. Anni 70, anni di grandi riforme sociali nel nostro Paese, lo Statuto dei Lavoratori, la legge sul divorzio e soprattutto la legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale.